Ben trovati con Mercati che fare, siamo ad una settimana dalla tornata elettorale e cercheremo questa sera di capire che cosa succede quando le elezioni arrivano in un paese e ci sono dei risultati piuttosto che altri, cosa succede naturalmente ai nostri risparmi. Ne parleremo con Massimo Esposti, giornalista economico-finanziario, firma in passato del Sole 24 Ore. Grazie per essere qui, Massimo. Grazie a voi dell'invito. Buona serata anche a te. Allora, io comincerei proprio con un articolo che è uscito qualche giorno fa, proprio sul Sole 24 Ore Online, che titolava, come vanno borse e bond quando un paese resta senza governo? È un po' il tema del giorno, anche nelle trasmissioni in cui si parlava di politica, spesso e volentieri, in queste ultime settimane, in queste ultime giornate in maniera particolare, si parlava anche degli effetti che le scelte politiche hanno sulle scelte finanziarie. Tema molto concreto. Ma è a questo che devono pensare i risparmiatori? Assolutamente sì, in questo momento di incertezza politica, appunto, quale governo poi si concretizzerà, se si concretizzerà, noi dobbiamo passare alla valutazione della concretezza economica, del risparmio degli italiani, degli investimenti degli italiani. Queste fasi, appunto, un po' di grande tumulto, anche dal punto di vista proprio psicologico delle persone, è importante mantenere i nervi molto, 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 molto saldi, di stare tranquilli, sì. Io, Massimo, ho fatto preparare dalla nostra redazione un servizio che ci fa vedere che cosa è successo nell'ultima settimana, ma soprattutto che cosa è successo anche in passato su alcuni degli eventi storici più importanti di quelli che ricordiamo negli ultimi anni. Vediamo questo servizio e poi ne parleremo assieme. Meno 0,42% e questo è il dato di chiusura del Fuzzimib il 5 marzo scorso, il giorno dopo le elezioni. Al di là della forte incertezza e instabilità, il rischio politico questa volta ha fatto registrare deboli conseguenze. Ma cosa è successo in passato? Era il 1994 quando Silvio Berlusconi, con Forza Italia, dà il via alla Seconda Repubblica e il Fuzzimib registra nei tre giorni successivi alle elezioni un più 4,54%. Due anni dopo è il tempo di Romano Prodi e del suo ulivo, qui la borsa assegna una performance di poco sotto l'1%. Diversa è la reazione nel 2013 durante la crisi del debito sovrano, dove nei giorni subito successivi alle elezioni si tocca quota a meno 2,63%. Forte è anche l'impatto della Brexit, capace di travolgere tutti i listini europei. 411 miliardi di capitalizzazione persi in un solo giorno e Milano chiude con meno 12,48%. Più contenute le perdite legate all'indomani della vittoria di Donald Trump o all'esito del referendum costituzionale nel 2013. E alla prossima tornata elettorale cosa accadrà? Ecco, abbiamo visto alcuni dati, alcuni numeri, quello che fa più impressione è quello del giorno post Brexit, meno 12,48%, che storicamente è il peggior giorno di crollo nella borsa italiana massima. Ma quello che ti chiedo io, i risparmiatori non possono seguire queste oscillazioni, devono pensare ad altro quanto impostano i risparmi? Quasi non devono, perché sennò si dedicano completamente e purtroppo molti non ne hanno gli strumenti. Anche perché ricordiamo Brexit, fino a qualche ora prima dei risultati ufficiali, sembrava sicuro l'altro risultato. Io avessi voluto cavalcare il trading online in quelle ore. Si sarebbe fatto molto più male. Molto, ma tantissimo male. No, ecco, il risparmiatore deve guardare sempre in un'ottica di sicurezza intesa come obiettivo delle proprie finalità economiche ed investimento. avete dato una serie di indicazioni, appunto, di reazioni a particolari eventi. Ecco, adesso i mercati internazionali stanno subendo degli scostamenti, delle pressioni su eventi, parliamo ad esempio delle tensioni geopolitiche Nord Corea. Che adesso sembrano sistemarsi anche quelle. Pare che in qualche modo comunque vadano a cercare di abbassare i toni, probabilmente conta molto, ha contato molto anche l'intervento della Cina. Abbiamo il problema dei dazi americani, che adesso l'America fa la voce grossa con l'Europa, ma non dimentichiamo che l'Europa ha affiancato l'America, ad esempio, nell'embargo nei confronti della Russia, che all'Italia è costato tantissimo, perché noi esportiamo tantissimo. Ci sono mille variabili che ormai riducono anche la nostra piccola realtà, perché è veramente il caso di dirlo, realtà italiana ha un microcosmo dove si litiga di politica, va tutto bene, però quando si parla di denaro, e denaro sudato da parte delle famiglie e dei risparmiatori, allora ecco che la prospettiva, lo sguardo si deve alzare. Ecco, questo ci fa capire che quando poi anche noi qui in questa trasmissione parliamo spessissimo di diversificazione, nell'ottica di quello che dicevi tu, nell'orticello italiano forse la diversificazione impone di non tenere tutti i risparmi, cioè diversificare attraverso gli strumenti leciti naturalmente, permette di cogliere le opportunità in tutto il mondo o ridurre i rischi in tutto il mondo. Assolutamente, noi abbiamo visto che la crisi e l'incertezza ha portato ad esempio degli accumuli in Italia mostruosi sui conti correnti, conti correnti che non è che non rendano, costano, quindi quel denaro che lasciamo immobilizzato su un conto corrente, alla fine tra costi vari eccetera, ci costa, scusate il gioco di parole. Qualche settimana fa abbiamo fatto vedere proprio un'indagine fatta dal Sole 24 ore insieme a Prometeia che sui 1.400 miliardi di liquidità sui conti correnti conteggiava un costo anno e 10 miliardi, quindi una perdita in conto pro quota per ciascuno di noi. Perché le banche sono contente se noi lasciamo i soldi sul conto corrente, ma noi saremmo più contenti se il risparmiatore guardasse appunto in un'ottica legata alle proprie necessità, quindi di crescita familiare, quindi chi ha bambini piccoli, chi non ha bambini piccoli, chi ha quelli che studiano, chi deve acquistare una casa. Ecco, da questo punto di vista ci sono tantissimi strumenti di investimento come i fondi che ci permettono, ci permettono anche i peer, di investire su strategie mondiali o su realtà magari piccole e medie, molto dinamiche, che lavorano tantissimo con l'estero e che danno dei rendimenti estremamente interessanti. Massimo, visto che parliamo di comportamenti, perché poi sono i comportamenti che incidono a volte anche più dei prodotti finanziari sui risultati della gestione dei nostri capitali, dei nostri risparmi, io volevo sottoporti alcune grafiche tratte da una ricerca di Capital Group che si chiama i comportamenti degli investitori e creazione del valore nel lungo periodo e ne ho tirati fuori alcuni semplici che sembrano banali, tipo questo, gli investitori tendono a comprare sui massimi e a vendere sui minimi, significa maturare delle perdite sicure. È verissimo, è come un po' seguire la moda, che bella quella giacca, tutti a comprare quella giacca, è evidente che tu ti debba aspettare che il prezzo sia molto alto e invece è un po' l'opposto, mi viene in mente l'estate scorsa quando c'erano molti titoli dell'Hightech americana o bassissimo e poi sono balzati, nessuno andava a investire su questo, se non gli investitori ovviamente strutturati perché quelli sono come falchi che si aggirano ovviamente e hanno gli strumenti di analisi. Quello che sottolineavi e la ricerca sottolineava è perfettamente vero, fa parte di quella sfera psicologica del risparmiatore che proprio con trasmissioni del genere, giornali specializzati eccetera si cerca di un po' spacchettare, di ricondurre a un'analisi più fredda. Anche un altro effetto, infatti noi abbiamo differenziato la grafica rossa, quella negativa con quella verde, quella positiva, però dice i comportamenti imitativi da gregge sono molto frequenti, tutti quanti nella stessa direzione. Sì, c'è una frase che mi fa venire l'orticaria dal punto di vista degli investimenti e del risparmio e dei pericoli che si possono occorrere con me l'ha detto un amico, ecco quando te lo dice un amico probabilmente quello non è un amico o anche lui è stato informato da un altro amico, ma prima che arrivi a te questa informazione diciamo che le transazioni sono andate dove dovevano andare ma non dove vorresti andassero effettivamente dopo che tu hai sborsato del denaro. Voglio poi leggerne una che sembra banale però poi influenza moltissimi i comportamenti perché dice, e vorrei che la tenessimo un po' fuori anche mentre ne discutiamo, gran parte degli investitori sono avversi alle perdite, ecco perché questa frase incide sui comportamenti, perché non è banale così come sembrerebbe? È un po', deriva un po' dalle modifiche genetiche che il risparmio degli italiani hanno subito con i grandissimi investimenti sui titoli di Stato, quindi abituati a un investimento che ti dava un rendimento sicuro e dove l'investimento veniva garantito dallo Stato, ecco che l'investitore e gran parte dei risparmiatori non accettano ancora la possibilità di una perdita, quantunque ora ormai tantissimi titoli di Stato abbiano rendimenti negativi, questo è importante da ricordare, ma ancora una volta diventa importante anche saper accettare un po' come nelle partite di calcio la sconfitta onorevole. Quando abbiamo un investimento e stiamo vedendo che questo investimento sta scendendo sotto una soglia che per noi diventerà come perdita non più sopportabile, bisogna avere il coraggio di accettare la perdita e vendere. Ecco e poi in questi termini il risparmio gestito di cui parlavi sempre tu ti permette di avere una visione d'assieme che è sicuramente diversa da quella puntuale di un singolo titolo. Non potresti neanche con tutta la buona volontà cercare di seguire l'andamento dei mercati e soprattutto queste violentissime escursioni che ci sono con fatti appunto che derivano da un milione di variabili, quindi avere un risparmio gestito è chiaro che ti mette al riparo perché c'è chi 24 ore su 24 sta lavorando per te. Io scusa volevo solo sottolineare una cosa, ho visto il tuo libro Il risparmio che vince e che è un po' appunto... Grazie per la pubblicità a questo punto Massimo. Poi dopo vabbè il caffè lo pagherai, ma non per altro perché è molto legato all'attualità di questi tempi ecco e è importante insomma avere anche degli strumenti che ci permettano di metterci un po' tranquilli a ragionare. Guardate che oggi la gestione del denaro per una famiglia, uno direbbe una semplice famiglia, è strategica ormai con rendimenti che sono a zero, con delle prospettive economiche ancora di difficoltà anche se siamo in una fase meno male di inizio di ripresa, diventano fondamentali. Che poi anche in un contesto economico, demografico, sociale in cui le nostre esigenze familiari e personali sono cambiate notevolmente rispetto a quelle di 30, 40, 50 anni fa, per cui gli approcci devono essere diversi. Gli aspetti di proiezione, chiamiamo, di strategia diciamo familiare, sono diversissimi da quelli di 50 anni fa, quindi 50 anni fa si pensava solo lavoro, lavoro, prendere la casa, mettere da parte i soldi, far studiare i figli. Faccio studiare i figli ed entrano nel mondo del lavoro oggi. Anche loro si sganciano, adesso hai magari un solo figlio, hai delle difficoltà a trovare il lavoro, tu stai invecchiando, devi pensare magari a curare i genitori anziani, tu stesso stai invecchiando e quindi dice, ma fra 20 anni chi curerà me? E la previdenza mi garantirà la sostenibilità del reddito? Avremo un sistema sociale, avremo un welfare, avremo una sanità che sarà in grado di supportarci o no? E questo diventa un vero investimento. Parliamo di qualche atteggiamento virtuoso nei confronti però degli investimenti Massimo, perché uno di quelli virtuosi che sembra anche questo quasi scontato e però è stato ricordato proprio dal recente premio Nobel per l'economia Richard Tyler, che è un psicologo ricordiamolo, dice la permanenza nell'investimento produce i risultati più elevati, cioè Richard Tyler dice non andiamo a guardare costantemente quello che sta succedendo agli investimenti perché poi ci prende male, soprattutto nei periodi di difficoltà, ma lasciamoli lì, lasciamoli maturare come un seme, non andiamo a controllare ogni tre minuti se la piantina stia nascendo meno. Assolutamente sì, ma aggiungerei, vediamo dove abbiamo piantato questo semino, cioè deve essere un bel terreno coltivato bene, con gente in gamba che sappia capire anche gli andamenti delle stagioni, il tempo, le incertezze, le variabili improvvise. Ecco, da questo punto di vista siamo perfettamente d'accordo. Ci vuole specializzazione e affidarsi a qualcuno che appunto sappia gestire anche nei momenti più drammatici, perché sicuramente il proprio investimento, se uno appunto, come dicevi tu, lo segue giorno per giorno, è chiaro, c'è un grande scossone sui mercati mondiali, anche quello scende. Oggi poi gli strumenti tecnologici, di accesso facile alle situazioni bancarie, alle condizioni dei nostri conti correnti, dei nostri investimenti, rendono più trasparente, questo è un vantaggio, però ti portano magari a controllarlo anche con maggior frequenza e quindi avere anche un pizzico di ansia in più. Mai si vede con le app, lo vedi addirittura sui mezzi pubblici, gente che si scambia, hai visto la borsa qui, l'indice, ma io ho investito su questo, ho investito su quell'altro, sembrano tutti dei veramente finanzieri d'assalto. Ecco, però da questo punto di vista va benissimo, va benissimo, però anche in questo caso il trading, ecco, riconduciamolo a una piccola parte, se vogliamo farlo, di quanto abbiamo a disposizione, tenendo conto che è una parte ad altissimo rischio. Massimo, i comportamenti virtuosi, andiamo un pochino più veloci in questa fase, parlano del beneficiare dell'accumulo dei rendimenti, perché poi la proiezione e il valore geometrico della crescita dei rendimenti crea miglioramenti anche dal punto di vista della redditività, soprattutto quanto, come parlavi tu dei PIR, possiamo anche cancellare le tassazioni sui rendimenti. Assolutamente, se abbini le due cose, cioè lo sgancio della tassazione e in più l'investimento su delle realtà che funzionano molto bene, che sono proiettate spesso verso l'estero, che sono molto dinamiche, quindi sono tra l'altro meno soggette anche agli andamenti dei perimetri politici, quindi perché sono dinamiche, sanno innovare, sanno investire, sanno rischiare, perché un altro problema grosso oggi in Italia è che spesso alcune aziende non vogliono rischiare. Ecco, qui abbiamo tutto un panorama di imprese, a partire dai loro proprietari responsabili, che rischiano, sanno rischiare e sanno puntare su quei mercati, anche quelli più difficili. Massimo, abbiamo cominciato questa trasmissione parlando dei perché e dei per come investire, stare attenti anche nei momenti di difficoltà. Io voglio leggervi in 30 secondi queste grafiche che ci fanno vedere che cosa sarebbe successo se avessimo investito nei periodi storici più complicati. Per esempio il bombardamento di Pearl Harbor, 7 dicembre 1941, 10 mila dollari, guardate, dopo dieci anni sarebbero diventati 41 mila e 7, dopo 75 anni, cioè nel 2016 41 milioni e 499 mila, pensate, in 75 anni che crescita. Andiamo avanti velocissimi, lancio dello Sputnik, 4 dicembre 1957, vedete, dopo dieci anni sempre 40 mila, quindi più 14% in media all'anno, dopo 59 anni, quindi sempre a marzo del 2016, 4 milioni e 530 mila dollari. Costruzione del muro di Berlino, non un bellissimo momento, dieci anni dopo i 10 mila, nel 71 erano diventati 25 mila dollari, che comunque è una crescita importante. A marzo del 2016 2 milioni e 292. E così andando avanti l'assassino del Presidente Kennedy, 22 mila e 2 milioni dopo 53 anni. Il crollo di Wall Street del 87, dopo dieci anni 41 mila, quindi quattro volte di più. Dopo 29 anni, 140 mila, quindi nonostante si fosse partiti in un momento di difficoltà. 2 agosto 90, Guerra del Golfo, più 16%, 47 mila dollari dai 10 mila iniziali dopo dieci anni, 104 mila dollari dopo 26. Crollo delle Torri Gemelle, 13 mila dollari dopo dieci anni, 25 mila dopo 15. Arriviamo al crollo di Lehman Brothers, dopo dieci anni il doppio dell'investimento, da 10 mila a 19 mila, 177. Questo ci fa capire che il lungo periodo premia. Hai dieci secondi Massimo. È verissimo, proprio per questo guardiamo il futuro anche dei nostri sudatissimi risparmi, proprio cercando di scegliere gli strumenti che ci permettano di muoverci con loro, quindi affidando loro con fiducia, una strategia che deve assolutamente avere dei ritorni. Grazie a Massimo Esposti per essere stato qui con noi, grazie a voi, non preoccupiamoci troppo della politica, quindi guardiamo gli investimenti come progetti di vita. Arrivederci a tutti e buona serata.